Un Verona che probabilmente avrebbe preferito giocare, la neve non lo ha permesso e sabato c'è la Torres. Un vero peccato questa sosta perché veniamo da un ciclo importante, abbiamo fatto dei buoni risultati e anche delle buone partite. Speriamo che questa settimana almeno si riesca ad allenarsi in un modo giusto e poi mancano anche le nazionali per cui certamente non siamo facilitati per questa trasferta. Un Verona che sta recuperando al meglio elementi importanti come Gabbiadini che è tornata al gol, come la stessa Marta Carissimi che viene da un'operazione al menisco. Queste sono giocatrici su cui noi contavamo dall'inizio, purtroppo ci sono stati questi intoppi, tutti questi infortuni che ci hanno penalizzato, ci hanno penalizzato parecchio. Oltre agli infortuni anche tutte le partite che abbiamo dovuto affrontare fra Champions e resto. Ma certamente la squadra è in crescita e questo ci fa ben sperare per il futuro del campionato. Uno stop imprevisto, causa neve e adesso c'è il big match con la Torres. Sì, avremmo preferito giocarlo, visto che comunque era una partita importante, arrivavamo da una partita di Coppa non bellissima e quindi solitamente dopo le brutte prestazioni c'è sempre voglia di riscatto. Quindi avremmo preferito giocarla subito, però manterremo questa voglia per la Torres, abbiamo una settimana per prepararla e dobbiamo arrivare sicuramente al top della forma per questa partita. Un Verona che ha visto il tuo recupero, sei rientrata da tre giornate dopo l'operazione al menisco, come ti senti e qual è il punto di rientro? Sì, sono rientrata da tre partite ma diciamo che la condizione ottimale è ancora distante, però speriamo di portarla sempre più vicino al top della forma. Non ce l'avrò contro la Torres, però sicuramente venderò cara la pelle in quella partita. Grazie. Grazie.